Un cordiale saluto da Andrea Bia, giorni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In Fipilì a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Scandiccia e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, 1 km tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Sempre in Fipilì ma a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Viabilità della città di Firenze code in aumento sul lungarno Cristoforo Colombo in direzione lungarno Aldomoro a causa di un incidente che ha provocato un restringimento di carreggiata. Rimaniamo su Firenze dove si ricorda che a causa dell'emergenza sanitaria è stato ulteriormente sospeso l'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade fino al primo lunedì di aprile. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!